Non sarà il termine più giusto, ma lasciatecelo passare. E sì, perché anche se non ufficialmente, Donatella è stata proprio adottata. Vale a dire che è come se avesse un papà e una mamma. Fa niente che lui è il primario del reparto dove vive attaccata ad un respiratore e lei è una suora che ha fatto voto di castità. Per tutti sono i suoi genitori. Il Tribunale dei minori di Bari l'ha affidata a loro. Quelli naturali non potevano prendersi cura di lei. Adesso qui è come se fosse la figlia di tutti, amata e coccolata, come una di famiglia. La teniamo in vita con l'aiuto dei superiori, in tutti i sensi, e ci dovrà permettere di continuare ad assistere per tutti i giorni che lei ci permetterà di farlo. E così da sette anni nell'unità di rianimazione dell'ospedale Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Donatella è affetta da una malattia rarissima. Le malformazioni osteomuscolari le provocano problemi di insufficienza respiratoria. Da quando è nata viene alimentata artificialmente, una bambina però con una grande voglia di vivere. Con lei si ride, si gioca, si scherza e quindi è un angioletto. Prima o poi è la scommessa del personale del reparto. Riusciremo a portarla fuori e a farla camminare. Papa Benedetto XVI quando venne qui promise di pregare per lei. Suor Noemi, che la segue da sempre, crede nel miracolo. Da queste parti vogliono farci l'abitudine. Facciamo quello che possiamo. Qualche preghiera ci vuole anche. E beh, io ci ho detto a Padre Pio, alla Madonna e al cuore di Gesù che si muovessero a fare il miracolo. Noi quello cerchiamo. Grazie. Grazie.